No, a farla diva proprio non sono brava, però posso insegnarvi a portare un po' di luce ai vostri grossi occhiali neri. Proviamoci insieme. Vi servirà del cartoncino o delle pagine di giornale. Dello scotch di carta, una bomboletta spray, possibilmente argentata e poi i vostri occhiali. Prendete il vostro scotch e coprite con attenzione tutte le parti che non volete che vengano colorate. Così. Noi abbiamo deciso di lasciare solo questa parte senza lo scotch, così che qui verrà tutto l'effetto brillantinato, però voi potete decidere anche di coprirlo tutto. Basta che la lente sia sempre a riparo. È ora di provarci. Dovrete ripassarlo diverse volte, quindi passate da un lato, continuate dall'altro e solo quando asciugato passate la seconda volta. Voilà! Ecco il risultato. Stupendo, vero? Ci vediamo la prossima volta! Grazie! 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 Grazie!